La sessione reati contro la persona in danno di minori e sessuali della squadra mobile di Reggio, a conclusione di serrate indagini coordinate dalla procura di Reggio Calabria, diretta dal dottor Bomardieri, ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di un 75enne di Reggio Calabria, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale ai danni di una minore di 10 anni. I uomini della Polizia di Stato hanno fatto luce su un grave episodio di abuso sessuale ai danni di una bambina, la quale nei primi giorni del mese di settembre è stata costretta con forza dall'uomo, approfittando della momentanea distrazione dei familiari, a compiere atti sessuali all'interno della sua abitazione. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto dottor Gerardo Dominiani e dal sostituto procuratore dottor Nicola Decaria hanno avuto origine dalle dichiarazioni dei familiari della minore che, raccontando ai poliziotti della squadra mobile, le confidenze raccolte dalla bambina nell'imminenza dei fatti, hanno consentito di portare alla luce il grave abuso sessuale successivamente confermato in modo attendibile dalla stessa minore, a distanza di pochissimi giorni. Concordando con le risultanze investigative acquisite dalla squadra mobile, la procura di Reggio ha avanzato urgente richiesta di misura cautelare nei confronti dell'uomo che il GIP ha accolto, disponendo la custodia cautelare negli arresti domiciliari, trattandosi di un soggetto ultrasettantenne.